Il coronavirus è diventato ormai il tema predominante di tutti, anche della maggioranza dei VIP di tutto il mondo In questi giorni sull'argomento sta intervenendo molto spesso anche la popstar Madonna, che ha proposto sui social ai suoi fan allenamenti, massaggi e rigeneranti bagni Questo dunque il suo modo di affrontare la quarantena forzata. L'artista italo-americana è superattiva soprattutto su Instagram, ma molti follower hanno notato anche una Madonna decisamente diversa In particolare, nell'ultima storia si è immortalata in una veste alquanto sexy, ma allo stesso tempo insolita Lei è infatti quasi irriconoscibile. Il suo volto sembra molto gonfio e c'è chi ritiene che sia ricorsa ad alcuni ritocchi estetici, che le hanno adesso provocato questi effetti collaterali Sicuramente la cantante è ancora alle prese con la convalescenza, dopo il brutto incidente occorso nella capitale francese Parigi durante una sua esibizione sul palco Punto questa una delle sue opinioni in merito al Covid-19. Il coronavirus è il grande livellatore. Non fa discriminazioni Colpisce tutti, senza distinzione, non importa quanto sei ricco, famoso, divertente o intelligente, dove vivi, quanti anni hai e quali storie meravigliose sai raccontare Ci ha resi tutti uguali. Siamo tutti sulla stessa barca Quando la barca affonda, affondiamo tutti insieme, ha aggiunto Madonna Tornando allo scatto, vediamo come si è presentata.Madonna si è fotografata completamente nuda all'interno di una vasca e il suo viso è davvero differente, rispetto a come lo conoscevamo La sua quarantena la sta trascorrendo a Londra. Nella sua casa, insieme ad uno dei figli, Mercy James, e al suo compagno di 25 anni, il ballerino Lamarie Williams Inoltre, il coronavirus le ha causato numerosi problemi a livello professionale. Come molti altri musicisti, è stata costretta a cancellare diversi importanti eventi .Madonna ha dovuto rinunciare al suo Madame X Tour, mentre ad esempio c'è stato l'annullamento o il rinvio di alcuni concerti da parte di Miley Cyrus, per il gemme Lady Gaga Stessa cosa è accaduta per alcuni dei festival più grandi del mondo come Graston Bride Regno Unito e l'Eurovision Song Contest di Rotterdam Ritornando alla popstar Madonna, si attendono comunque sue ulteriori notizie per comprendere il perché di questo suo cambiamento estetico, al momento non chiaro .